Salve a tutti, Nathan Everiani, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sebi, oggi parliamo del Nathan numero 368 dal titolo L'eredità di Scotos. Innanzitutto, come potete vedere dall'immagine di copertina c'è un bel bollino qui e questo direi che, insomma, io a memoria non ricordo altri fumetti bonelli in cui si annunciava l'inizio di una nuova saga. Quindi qua viene annunciata l'inizio alle origini del male. All'interno dell'albo troviamo due storie, due racconti, diciamo così, che naturalmente proseguiranno nei prossimi numeri e ci faranno compagnia fino a marzo. Sono due racconti separati. Nel primo ci troviamo nei giorni nostri in cui c'è Nathan che conduce, diciamo, un'indagine. Ora vi racconto qualcosina, ma naturalmente senza entrare nei dettagli per non rovinarvi il piacere della lettura. Nell'altra invece andiamo appunto su questa saga delle origini del male e anche questa qua si concluderà poi a marzo. L'immagine di copertina, come sempre, di Sergio Giardo ci fa vedere Nathan Never che guarda. In realtà lo sguardo è rivolto verso questo bambino in basso che è appunto Aristotele Scotos che tiene in braccio un pupazzetto, un orsacchiotto, che poi ritroviamo anche all'interno della storia. E poi naturalmente questo rappresentazione sul vetro di Aristotele Scotos, come sapete, anzi ancora non vi ho detto nulla perché in realtà in questa storia ritorna uno dei personaggi principali, dei villain principali della saga di Nathan Never. Devo dire che nell'editoriale iniziale, poi anche il buon è Baby Vigna perché è lui che si è occupato di scrivere queste due storie, qui ci fa un riassunto di tutto ciò che bisogna sapere su Aristotele Scotos, le origini, e sia nella prima storia che in realtà la prima storia è strutturata in modo da mettere al corrente il lettore che non ha, anche chi non ha mai letto Nathan Never, insomma di sapere un po' del passato di tutto quello che è successo. In pratica c'è un antefatto in cui si ritorna a 22 anni prima, in cui si vede Nathan insieme a Legs, insieme a May e a Branco, entrare nella base orbitale di Scotos, con cui là poi avranno lo scontro finale. E poi successivamente veniamo a conoscenza, ritorniamo naturalmente nei giorni 22 anni dopo, si vede la moglie di Aristotele Scotos, che è Sada, scappar via in seguito a un blitz, portata avanti da un detective che si chiama Leonard Carella, anche qui ragazzi non posso non fare a meno di notare il riferimento a Carella, che è Steve Carella dei romanzi di Ed McMahon, Baby Bomba Epiligna, quando l'ha introdotto sapeva appunto il fatto suo. E insieme a un procuratore distrettuale che si chiama Angelina Terango, andranno da Nathan ad affidarvi una nuova indagine, sempre su Aristotele Scotos. In realtà Aristotele Scotos è uno dei primi Dylan, come avevo detto all'inizio, però ha fondato una chiesa della divina presenza e naturalmente dietro questa questa maschera di santone, di predicatore, in cui diceva di abbandonare tutti i beni materiali e tutto il resto, dare importanza al lato spirituale della vita. In realtà poi dall'altra parte si dedicava a ogni tipo di crimine, dal traffico di armi a tutta una serie di cose più truffaldine possibili, insomma c'è una lunga lista che anche Baby Vigna insomma riassume in quella pagina che avevo fatto vedere prima, però la cosa poi più importante e il suo progetto diciamo principale è quello di sterminare completamente la razza umana e di sostituirla con un'altra superiore, no? I suoi classici, i tecnodroidi, ecco, di cui il primo tecnodroid è il primo rappresentante e Neos che è il suo figlio, insomma, insomma, qui c'è veramente una saga, possiamo dire, alla Beautiful, perché le cose intrecciate sono pazzesche. Io devo dire la verità, non ho seguito, ho letto i primissimi numeri di Nathan, ma poi non perché li ho recuperati, così quando nel 2013, se non vado errato, 2013, insomma, 2014, no, credo era 2013, ho cominciato a appassionarmi a Nathan, quindi ho recuperato qualche numero del passato, però naturalmente io non ho chiaramente come sono andati tutti i fatti, quindi in questa prima storia c'è un riassunto, diciamo, generale con tanto di spremitura e di meninge, io ho dovuto, ragazzi, prendere appunti e appuntarmi tutti i vari personaggi, perché c'è Aristotele Scotos, c'è Cal che è suo figlio, che anche a sua volta poi si scontrerà con Nathan, la sua mente viene preservata e rimessa di nuovo in un altro corpo, c'è Sada che è la moglie di Aristotele Scotos, come vedete la cosa è abbastanza complicata, anche lo stesso Neos che è il primo tecnodroid, in realtà la madre è la sorella di Mayframe, quindi, ragazzi, qui c'è veramente da uscirne quasi pazzi, però devo dire che io mi sono messo con calma a appuntarmi tutti i nomi e tutti i vari eventi, alla fine devo dire che nelle 50 pagine iniziali mi siamo messo in carreggiata, ecco, per seguire al meglio questa saga. Molto più semplice invece è seguire la seconda storia, appunto, le origini del male, perché anche qui nei prossimi numeri percorreremo, si partirà proprio dall'infanzia di Aristotele Scotos prima di poi passare all'adolescenza e poi vedere appunto la sua scesa, eccolo qua. Scotos sono le origini del male, da qui in poi invece facciamo la conoscenza con il bambino, qui c'è l'orsacchiotto di cui vi dicevo prima, insomma, anche in questa parte di storia andremo a vedere qual è stato poi l'evento scatenante di tutto ciò che poi ha fatto tramutare, diciamo, questo bambino in un malvagio. Anche qui la storia mi ha ricordato un pochino anche quella di Anakin Skywalker, perché naturalmente i bambini, quando sono piccoli, nascono, diciamo, hanno una indole non malvagia, ma poi, diciamo, gli eventi traumatici, quello che vedono, assistono, poi li fa diventare, insomma, delle persone poi diverse. Allora, parlando invece dei disegnatori, perché si alternano due disegnatori, nella prima storia abbiamo Romeo Toffanetti, nella seconda invece Germano Bonazzi. Devo dire che Toffanetti mi ha specialmente sorpreso in certe tavole, vi faccio vedere qualcosina, per esempio, guardate che bella questa, dove c'è appunto Natas, che ha l'incontro, si scontra poi con Scotos, guardate che bello qui che si vede tutto quanto lo spazio, ma poi mi è piaciuto tantissimo anche il fatto di rompere completamente la griglia bonelliana, vedete qui? Lo faccio vedere un po' più, inchino più da lontano, vedete qui non c'è più la griglia, c'è addirittura un ovale, e poi qua è formato a striscia, ma non solo, appunto, nella pagina successiva, vedete, come, come, con questa bellissima predominanza è il nero con le stelle che si vedono nello spazio, qua si vede appunto la terra, queste immagini che vengono inserite molto alla comics americana, vedete? Soprattutto qui. insomma, l'ho trovati veramente, veramente ben fatti, è proprio il classico stile che mi piace vedere anche nella fantascienza. E sono, appunto, devo dire che sono stati veramente bravi nel rappresentare i dettagli anatomici, e non è cosa da poco, naturalmente per un disegnatore andarsi a informare, vedete qui, per esempio, come si vede benissimo disegnato l'intestino crasso, fatto proprio veramente molto molto bene. E anche l'altro disegnatore che è Bonazzi, pagina 73, quando c'è questa immagine abbastanza splatter, possiamo dire così, in cui c'è il dettaglio dell'occhio che di solito viene rappresentato solamente legato al nervo ottico, invece qui viene rappresentato proprio con tutti i muscoli, riesco a distinguere anche i vari muscoli dell'occhio, quindi dal grande, il piccolo obliquo, e poi i retti, i muscoli retti. Quindi, veramente complimenti ai disegnatori, l'altro si vede anche il proiettile in uscita, insomma, veramente molto molto piacevole. Io non sono un amante dello splatter, non sono un amante dell'horror, però quando ci sono queste rappresentazioni così ben fatte, non posso che apprezzare. Ragazzi, dal punto di vista generale, io devo dire che di Nathan Never ne sono pienamente soddisfatto. Qualcuno potrebbe magari storcere il naso perché magari non si esce qualcosa di nuovo, si torna sempre a riprendere qualche personaggio del passato. Io devo dire, comunque sia, non avendo seguito tutta la storia di Aristotele Scotos, per me è come se lo sto leggendo la prima volta, e quindi sono molto curioso di vedere anche come proseguirà la storia. La seconda storia mi ha particolarmente colpito, mi ha lasciato un senso veramente di tristezza, di amarezza. Questo bambino che subisce, diciamo, un evento tragico, non mi addentro perché non voglio naturalmente rovinare il piacere della lettura, però devo dire che emette tanta tanta tristezza. c'è il classico colpo di scena, anche finale, proprio nell'ultima pagina, nell'ultima vignetta che io adoro, veramente meraviglioso. E quindi, ragazzi, ne sapremo di più nei prossimi numeri, promosso a pieni voti. E noi ci vediamo al prossimo video con altra recensione scarsa. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.